Non vi metto in piedi per un semplice motivo, perché le altre volte quando stavo in piedi facevamo la catechesi, io cercavo di trasmettervi delle cose. Questa sera invece sto seduto perché insieme vogliamo metterci all'ascolto della prova di Dio, perché stasera iniziamo questo cammino che ci siamo proposti di fare. Abbiamo fatto due introduzioni, adesso però prendiamo veramente in mano il testo di Matteo. Stare in piedi in un certo modo dà più l'impressione del professore che sta parlando. Se potrebbe esserci lì una tecnica oppure una parte proprio specifica per quanto la liturgia, qui davanti alla parola, mi sarebbe piaciuto fare una sorta di cerchio, quindi stavamo tutti quanti poi, tutti quanti, potevamo guardarci in faccia e non c'era nessuno poi accendendo. Vabbè, per la prossima volta limite, per i prossimi incontri proviamo poi a fare il cerchio. Don Ernesto ci ricordava, stiamo in avvento, ha usato una bellissima immagine, attraverso lo Spirito poter diventare gravidi. Ed è bello perché ricordiamoci sempre questo, tutte le volte che si invoca lo Spirito Santo, non invochiamo lo Spirito per avere lo Spirito fine a se stesso, ma perché lo Spirito ci ricorda la nostra vocazione, cioè lo Spirito ci cristifica. E tutte le volte che scende lo Spirito è per renderci sempre di più simili a Cristo. Allora è bellissimo qui chiaramente Maria che ha generato Gesù Cristo e sapere, come direbbe San Paolo, non sono più che vivo ma Cristo vive in me, è possibile proprio grazie allo Spirito. perché facciamo attenzione, molte volte noi possiamo pensare che sia una nostra capacità. Allora io mi impegno e si faccio uscire più Gesù Cristo nella mia vita. Non è così. E noi ci riusciamo, se permettiamo allo Spirito, di agire dentro di noi. Allora, più invocazione allo Spirito nella nostra vita. Al limite della prossima volta, con Don Enesto se me lo ricordo, portiamo proprio la sequenza allo Spirito Santo. Iniziamo proprio questi incontri con la prova di Dio, perché vi ricordate che quando abbiamo visto la lezione divina diciamo che è indispensabile invocare lo Spirito. L'abbiamo invocato anche attraverso il Padre nostro, perché poi è il Padre che ci dona lo Spirito. Quindi Don Enesto ci ricordava questa realtà in avvento e in modo particolare stamattina che abbiamo iniziato questa novena ci separano nove giorni da Santo Natale. Non so, a me questo periodo piace tantissimo, perché entrano insieme pure un po' le emozioni, forse un po' anche di nostalgia. Sapete quando c'era nostalgia, voi direi che non stavo facendo vecchio. Un po' di nostalgia nel ricordo di quando si era bambini, allora lì in famiglia con i fratelli, il presepe, i zampognari che si sentivano. Non so se qui girano ancora in zampognari, dalle parti mi è un po' più difficile, la diversa. In qualche virgoletto qualcuno si sente. Allora ricordare di quei momenti che sembravano momenti belli, però pure loro c'erano i problemi. Perché noi poi abbiamo sempre questa capacità, no, ai tempi di una volta. I tempi di una volta sono come i tempi di oggi. Pure ieri c'erano i problemi. Diversi però i problemi c'erano. Come anche ci sono oggi, saranno anche purtroppo anche domani. Questi problemi non ci saranno quando poi saremo in paradiso. E quindi viviamo questi nove giorni con più intensità, però con quell'attenzione. Non è che noi ci prepariamo a vivere il Natale come se fosse il primo Natale. Noi non è che facciamo finta come se Gesù dovesse nascere il 25 dicembre. La liturgia non fa finta di niente. Gesù è nato una volta sola. E non nascerà un'altra volta. Noi aspettiamo che Lui ritornerà alla fine dei tempi. Quindi noi viviamo di questa attesa. Il vero avvento è questo. Noi ci sentiamo proiettati verso il fatto che Lui dovrà ritornare a giudicare i miei morti. E quindi ritornerà nello stato glorioso. Però è vero anche che viviamo del ricordo di quando Lui poi è venuto duemila anni fa. E quindi proprio da oggi, nello specifico da domani, proprio le letture che noi ascolteremo ci faranno quasi rivivere attimo per attimo ciò che ha preparato poi la nascita proprio di Gesù Cristo. Allora leggeremo le vocazioni a Maria, a Giuseppe, il Vangelo tra l'altro poi di Domenica, il Magnificat, la visita di Maria ed Elisabetta. Quindi diremo proprio momenti e momenti di quegli ultimi attimi fino ad arrivare poi alla Notte Santa e dove attraverso la liturgia noi ascolteremo la pagina di duemila anni fa. E nel mistero sacramentale della liturgia saremo risipresentati a noi a quell'evento. Perché in quell'evento della notte del Natale è iniziata per noi la salvezza. E quindi contempleremo l'inizio della salvezza. Questa salvezza che in tutte le pagine della scrittura ci viene comunicata. E in modo particolare, chiaramente, nei Vangeli. Allora iniziamo la lettura. Vi ricordate, non faremo la lettura integrale del Vangelo di Matteo perché sono 28 capitoli e non abbiamo il tempo di poterlo fare. Sarebbe bello poterlo fare, ma non abbiamo questa possibilità. Però se vi ricordate, già lo dissi, questo è un compito più vostro che non nostro da poter fare insieme. Perché se ci siamo proposti come comunità di cogliere ciò che il Signore ci dice attraverso l'Evangelista Matteo, allora lo dobbiamo fare voi. Uno si prende un compito, si prende un impegno, però lo dobbiamo portare avanti, altrimenti poi non ci troviamo. Quindi noi leggeremo solo alcuni brani insieme e cercheremo di meditarli insieme. Questa sera leggiamo proprio il primo capitolo che tra l'altro sarà la prima lettura, proprio l'Evangelo di domani, il primo capitolo di Matteo. Chi ha il testo, Matteo capitolo primo, chi non ha il testo un po' di pazienza nell'affinare un po' di più l'orecchio. Voi sapete che la regola, quando ci si accosta al testo sacro, è di non leggerlo, ma di ascoltarlo. Siccome il nostro è un contesto più di condivisione, diciamo anche tra virgolette di studio, così allora va bene che teniamo anche sott'occhio il testo. Però ricordiamo sempre, come abbiamo visto che la riduzione della parola, il testo va ascoltato, perché il Signore parla e noi ascoltiamo, quindi non è che leggiamo. Noi ascoltiamo il Signore che c'è da abborrire, la domenica, la messa domenicale, da abborrire proprio. A che serve quel foglietto? Me lo porto a casa, così posso meditare su quella parola che ho ascoltato, ma non durante la messa, mentre letture, proclama, io leggo, perché attimamente noi diventiamo una biblioteca. Invece la comunità che si raduna è una comunità in ascolto, non una comunità che legge. C'è un ministero specifico, un lettore. La capacità o meno dei lettori è un altro discorso. Se si riesce a trasmettere chi va a proclamare, è un altro discorso. Però ecco, noi cerchiamo di affinare il nostro orecchio. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Allora, leggo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Nasson. Nasson generò Salmon. Salmon generò Boz Daracab. Boz generò Obed Darut. Obed generò Iesse. Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Ioram. Ioram generò Ozia. Ozia generò Joatam. Joatam generò Akaz. Akaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadok. Sadok generò Akim. Akim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni di Abramo a Davide sono quattordici. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, quattordici. Dalla deportazione in Babilonia, Cristo, quattordici. E domani, durante la Messa, il sacerdote dirà parola del Signore. E noi risponderemmolo da Dio Cristo. Io non so, al vostro orecchio, al vostro cuore, questa pagina di questi nomi che cosa suscita. perché è una lista di nomi di cui noi forse non conosciamo quasi né solo qualcuno di questi nomi che noi conosciamo. Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. E ci viene da dire, ma cosa centrano tutti questi nomi, queste generazioni, con il fatto che sia una parola del Signore oppure addirittura che sia Vangelo? Perché è un Vangelo questo? Ascolteremo, ripeto, come domani, come pagina del Vangelo. Eppure lo troviamo qui, all'inizio del Vangelo. Qualcosa da dirci, questa pagina. Qualcosa riguarderà certamente anche noi. E c'è un messaggio che il Signore ci vuole dare. Ed è una cosa particolare, stupenda, perché, come dicevo, di questi nomi, noi di qualcuno conosciamo la storia, ma di altri non sappiamo niente. E di questi nomi, alcuni sono dei personaggi particolari, come c'è il re Davide, come c'è Abramo, il primo patriarca, ci sono altri patriarchi, qualcuno è profeta. Gli altri nomi sono dei vestofanti, dei sanguinari, nomi di persone non belle, non buone. Addirittura ci sono cinque donne che compaiono in questa genealogia, di cui tre donne e di queste sono donne di male a fare. Eppure tutti questi, tutti questi nomi, dicono come si può arrivare, o meglio, Gesù arriva, si affaccia alla storia del mondo, grazie a tutti questi nomi. Tutti questi sono i parenti di Gesù. È un po' come se noi volessimo costruire la nostra storia, la storia della nostra famiglia. E quindi ci raccontiamo la genealogia fin quando riusciamo a risalire indietro. Quindi qui si risale indietro, avete sentito, fino ad Abramo. Però in questi lunghi nomi, quattordici generazioni divise in tre blocchi, che poi se contiamo bene non sono quattordici, quattordici e quattordici, sono quattordici, tredici e tredici. In questi lunghi nomi e in questa storia di questi uomini si inserisce, si scrive la storia di Dio. Non solo, solo dei nomi, anche se per noi sono dei nomi. Dietro a un nome c'è sempre una storia. Dietro a un nome c'è sempre un volto. Maurizio non è astratto. Maurizio ha questo volto qui e dietro a questo volto c'è tutta la mia storia. Una storia che è fatta di grazia, ma anche fatta di peccato. E in questa storia di queste generazioni, storia di grazia e di peccato, il Signore si degna di nascere e di abitare. che che dica il canto tu scendi dalle stelle. Gesù Cristo non scende dalle stelle. Gesù Cristo si inserisce proprio in questa storia qui, segnata da luce e segnata da grazia. segnata da ombre e segnata di riflessi di splendore. Quello che in questo primo capitolo Matteo mette davanti ai nostri occhi è proprio questo il fatto. Che se si inizia perché dice il primo versetto genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, e in quel Gesù Cristo dice chi è di cui si descrive questa genealogia. Quindi Gesù Cristo, Gesù significa il Signore salva. Cristo significa Messia, l'inviato. Ricordate domenica scorsa Giovanni Battista che manda a dire ma sei tu il Messia o noi dobbiamo aspettare un altro? Perché per l'ebreo l'attesa del Messia è fondamentale. Sapete, gli ebrei attendono ancora il Messia. Il Messia è questo uomo mandato da Dio che può essere un profeta, che può essere il figlio stesso di Dio, che può essere Dio stesso che scende. L'ebreo non sa chi sia il Messia, cosa sarà il Messia. Quindi sarà sicuramente l'unto, uno che è consacrato e che è inviato da Dio. Quindi viene dall'alto questo Messia, metterà le cose a posto. Quindi sistemerà la situazione di peccato o la situazione che non va bene e scenderà. Quindi è una persona potente. Quindi Matteo che dice subito genealogia di Gesù Cristo, cioè di colui che salva perché mandato, perché consacrato, perché inviato, mette subito le mani avanti a dire attenzione, aprite bene gli occhi. Tu che stai leggendo questa pagina, tu che stai ascoltando questa parola del Signore, ricordate, Matteo sta scrivendo a degli ebrei questa pagina che noi leggiamo, Matteo l'ha scritta dopo che Cristo è morto e l'ha risorto. Quindi Matteo non è che sta lì, ha visto ciò che stava avvenendo. Quindi sta scrivendo a una comunità per farla crescere nella conoscenza di Cristo. Quindi sta dicendo, attenzione, tu che leggi questa pagina devi sapere bene chi è Gesù Cristo. Non aspettarti il segno grandioso perché di segni grandiosi non ne troverai nessuno. Aspettati segni di fragilità, di debolezza e anche di peccato perché così tu scoprirai il Cristo. Così scoprirai il figlio di Dio. Così scoprirai chi è Gesù, Dio salva e come Dio salva. Dio non salva al di fuori della storia. Dio salva nella storia. Per salvare, secondo voi, bisogna essere santi o bisogna essere peccatori? Ho sbagliato. Per essere salvati bisogna essere santi o peccatori? Peccatori. E sapete il nostro qual è? Che noi continuiamo a pensare di essere santi per avere la salvezza. Noi abbiamo celebrato la misericordia. Però il rischio nostro qual è stato? Forse di aver contemplato la misericordia in se stessa oppure di aver detto, ah, il Signore ci usa misericordia. Ma voi lo sapete quando il Signore ci usa misericordia? Quando io peccato. Perché affinché io possa sperimentare la misericordia, io devo sperimentare di essere peccatore, altrimenti la misericordia non la sperimenterò mai. Affinché io sperimenti l'amore, devo sperimentare che qualcuno mi deve amare. Quindi non è l'amore in astratto. Ah sì, quello mi vuole bene in astratto. Vi ricordate? Ne abbiamo detto, quando parliamo della liturgia, che c'è bisogno di gesti concreti, delle mediazioni, parole, gesti e segni che esprimano quello che ho dentro. Quindi in queste situazioni qui di peccato e di queste donne che sono, diciamo il termine, prostitute, dove noi non faremo nessun affidamento, ma che noi scarteremo, Dio per raggiungere la storia si servite anche di loro. Chiaramente, io poi devo capire che qui ecco il Vangelo, ecco l'annuncio, perché questo è annuncio da me, diventa lieta notizia se io l'accolgo nella mia vita. Cioè, se io capisco che questo sanguinario possa essere anch'io, e qualche volta lo sono stato, se io capisco che non sono stato fedele al Signore, anch'io lo sono stato, se ci avete fatto caso, dice Gesù Cristo, figlio di Davide, perché il nome per eccellenza qui in questa genealogia è Davide, perché Davide è il re per eccellenza. Ma Davide, vi ricordate che fine ha fatto? Il peccato che ha commesso. E vi ricordate quando lui riconoscerà il suo peccato, il Salmo 50 che abbiamo. E il Signore poi gli dirà il tuo peccato è scontato. Quindi, facciamo sempre attenzione a questo. Come anche noi abbiamo contemplato l'Immacolata. Non immaginiamoci subito l'Aureola. L'Aureola è l'ultima cosa. Immaginiamoci le armi nostre, quelle quotidiane. Perché qui si parla di quotidianità in queste genealogiche, in queste persone. Nella quotidianità hanno sperimentato la grazia, nella quotidianità hanno sperimentato il peccato. Noi vedremo proprio Matteo, quando Matteo sarà chiamato, vi ricordate Matteo dove stava quando Matteo venne chiamato? Al banco delle imposte. E quindi ricordate anche che Matteo, pubblico peccatore, era un pubblicano, e quindi lui il peccato lo commetteva dove? Siccome era pubblico il peccato lo commetteva, proprio quando riscuteva le tasse, perché una parte la mandava per Roma, e una parte nella sua tasca. Quando Gesù lo chiama? Lo chiama quando è seduto al banco delle imposte, cioè, propriamente sta facendo l'imbroglio. non quando Matteo stava in un tempio che stava pregando. E se ricordate l'Evangelo dell'Annunciazione, della festa dell'Immacolata, vi ricordate? Maria, quando è che viene chiamata? Il testo è vero, non ci dice Maria cosa stava facendo, però dice Maria, l'angelo entrò da lei, quindi forse stava a casa. Certamente non stava dicendo il rosario. Provate a pensare se Maria stava facendo i servizi in quel momento. È bellissimo questo. Invece vi ricordate quando l'angelo appare a Zaccaria? Dove appare? Nel tempio. Quando stava offrendo l'incenso, quindi il momento più solenne della prighiera. E questo ci fa capire che il Signore quindi non è che è a fianco. Io lavoro, finisco il lavoro, e poi dopo c'è il momento religioso. È in quella realtà. Noi purtroppo continuiamo a scendere le cose. Qui c'entra il Signore e qui il Signore non c'entra. È tutto abitato dalla presenza di Dio. Anche la storia più nera e più infame è abitata dalla presenza di Dio. Noi abbiamo un detto che dice Dio scrive dritto pure sulle righe storte. Proprio questo, proprio questo qui è. Cioè il Dio che sta scrivendo la sua storia è proprio attraverso la storia degli uomini. e la storia diventa storia di salvezza quando l'uomo nella sua storia lascia entrare Dio. Allora storia, la mia, entra a Dio e tutte le volte che Dio viene e interviene sempre e solo per salvare l'uomo, Dio entra, lascia entrare Dio nella mia storia, la mia storia diventa una storia salvifica, una storia che salva e non salva solo me ma permette a chi mi sta a fianco di poter essere contagiato da questa salvezza, da questa storia mia e io divento narratore poi della mia storia ma non di quello che ho fatto io ma di quello che il Signore opera e agisce in me. Dicotate Maria, grandi cose ha fatto in me l'Onipotente. Lora impariamo a guardarci impariamo a scrutare il passaggio di Dio nella nostra vita che non è facile nessuno dice che sia facile se Giovanni Battista ha dovuto dire sei tu o ne dobbiamo aspettare un altro vuol dire che questi segni della presenza di Dio sono segni particolari perché non sono di facile di lettura immediata noi abbiamo detto parlando della lezione divina che c'è bisogno di un tempo particolare a disposizione per poter fare questo ma c'è bisogno di un tempo particolare a disposizione per potersi fermare e riflettere l'avvento che noi stiamo vivendo questo vuole essere è vero ci prepariamo a Natale ma come ci stiamo preparando a Natale fateci caso uso l'espressione tra virgolette non per disprezzare quelli di fuori si stanno preparando a Natale meglio di noi perché sapete perché i negozi già da mezzo ottobre hanno messo le luminari di Natale e i panettoni prima si aspettava meno dove si iniziava dove i morti ma adesso anticipano sempre di più però intanto l'operazione Natale commerciale la fanno bene noi è Natale da vivere interiore non lo facciamo bene perché forse anche noi anche noi ci lasciamo prendere da questa realtà che è quella fateci caso anche quella delle luci natalizie quella che ti riempie gli occhi abbiamo anche bisogno di questo capite perché venne la luce vera in mezzo a noi la notte di Natale però vedete poi abbiamo preso il significato anche i doni che noi ci scambiamo sapete perché a Natale ci scambiamo i doni perché a Natale viene in mezzo a noi colui che è il dono per eccellenza il padre ci ha donato tutto se stesso nel figlio quindi noi accogliamo il dono che il padre ci ha fatto i nostri doni sono segni di quel dono perché se in Gesù Cristo il padre ci ha donato se stesso noi quando facciamo un dono a una persona talmente che non sia una cosa formale ma nel dono che faccio a chi voglio bene io è come se mettessi una parte di me stesso noi lo scegliamo il dono o lo scegliamo perché può piacere alla persona o lo scegliamo perché piace a noi quindi c'è qualcosa di noi stessi in quello che stiamo donando però vedete abbiamo proprio dimenticato poi da dove si originano le cose come addirittura lo dissi l'anno scorso se vi ricordate proprio parlavamo dei Natali se noi chiediamo ai nostri ragazzi che cos'è Natale ti diranno non si va a scuola quindi sono le feste della scuola si sta in famiglia si gioca ci regalano ci fanno i regali ma quasi nessuno ci dirà ricordiamo la nascita di Gesù provate a farlo provate a vedere chi vi dirà si ricorda la nascita di Gesù addirittura lui si è arrivato ad un'aberrazione grandissimo un sacerdote del nord ha detto che lui per rispettare i musulmani non fare le presepe in chiesa sinceramente non ho capito cosa significa questa cosa però ha detto che lui per rispettare i musulmani non fare le presepe va bene i musulmani non fare le presepe i musulmani non è che viene in chiesa quindi se lo fa i musulmani non lo vede non resta poi non susciti la sua sensibilità va bene però vedete come si arrivano poi gli estremi sapete una volta che è successo durante una processione del corpus domini il parroco veramente non è una battuta il parroco preparò la processione del corpus domini io penso pure qui da voi no bisogna proprio prepararsi l'azione cattolica si mette in fila gli altri che tutti con la processione che bisogna preparare la banda che deve venire i canti da fare così tutto pronto che cosa mancava alla fine l'ostia consacrata da mettere nello stensorio mancava lui cioè noi facciamo una festa dimenticandoci il festeggiato dopo tutto il Natale è il compleanno di Gesù noi quest'anno festeggiamo 2016 anni che lui è nato ma chi di noi farà gli auguri la notte di Natale vedete no devo andare perché è a messa di Natale oppure provate a pensare quando noi ci diciamo Buon Natale che cosa vogliamo dirci dovremmo dirci questo cioè io augurandoti il Buon Natale il Natale è nascita cioè io invece per essere chiaro e non ti dico Buona Festa come anche la Domenica noi dovremmo dire Buona Domenica non dovremmo dire Buongiorno la Domenica salutandoci dovremmo dire Buona Domenica e lì non sono solo parole le parole devono tornare ad essere parole che devono segnare ad essere pesanti perché noi a Natale lo vedremo lo ascolteremo il giorno di Natale il Vangelo di Giovanni dice Giovanni la parola il verbo si è fatto carne così forte quella parola che ha assunto proprio la carne come quando una persona si è innamorata quell'amore così forte che ci si è sposati il matrimonio questo è quell'amore che diventa così forte che diventa una realtà visibile ecco il matrimonio allora questa è la realtà è proprio questa che è quotidiana noi abbiamo fatto poi la festa del Natale ma era un giorno uguale agli altri la quotidianità l'ordinarietà l'ordinarietà perché Dio si rivela nell'ordinarietà non nella straordinarietà quindi ci sono tutti questi nomi e vedete che tutti questi nomi sono catalizzati dall'ultimo nome Gesù Cristo perché la storia per quanto buia possa essere alla fine è sempre la luce perché c'è Cristo la nostra vita per quanto segnata possa essere alla fine lo sbocco in Cristo Gesù ora qui ha detto quattordici generazioni quattordici e quattordici in tre blocchi particolari della storia però la cosa bella sapete qual è che dopo il punto qui che c'è a versetto sedici qui c'è un punto sul testo ma nella vita il punto non c'è sapete perché? perché ci sono altri nomi che qui Matteo si è dimenticato di scrivere e sapete quali sono i nomi che Matteo ha dimenticato di scrivere? no perché Matteo può riscrivere gli apostoli i nostri nomi la genealogia continua ci sono i nostri nomi che Matteo si è dimenticato allora se io provo a leggere allora c'è una storia prima di me poi c'è il centro Gesù Cristo l'alfe e l'omega il principio e la fine allora voi sapete quando si dice il principio e la fine si dice tutto e poi ci sono io dopo di lui e ci sono io come ci sono quelli prima di me con la stessa situazione cambia il mio modo di rapportarmi alla vita e di rapportarmi a me stesso io penso che molte volte certe forme di depressione che viviamo vengono proprio da questo fatto qui non abbiamo consapevolezza della nostra dignità di ciò che noi siamo perché vedete a casa nostra quando noi abbiamo un oggetto di valore il valore che noi diamo a quell'oggetto ce lo fa appunto valere vale per quel valore economico è la nostra vita provate a pensare quanto vale la nostra vita anche se abbiamo una persona che sia fallita la nostra vita perché situazioni particolari ci hanno portato in quella situazione e allora dovremmo capire che io non sono quella situazione particolare ho perso il lavoro io non sono però il mio lavoro quindi non è che ho perso il lavoro e è finita la mia vita certo la situazione è un po' particolare adesso e dovrò vedere come dovrò arrangiarmi però non è che la mia vita è finita perché vuol dire che allora io identificavo la mia vita con il lavoro e forse in quella catechia il signore poi scriverà anche lui per arrivare alla fine anche a Cristo quindi ricordiamoci dei nomi che dicono una storia in questa storia Cristo non è assente perché se da una storia particolare se Cristo no fosse assente non sarebbe più Cristo se Dio è Dio in tutto anche in quella storia dove io vorrei non averlo presente lui è presente lo stesso ricordate il peccato di Adam e Deva loro si nascondono come se il peccato si vogliono nascondere agli occhi di Dio perché anche noi quando c'è il peccato ci vogliamo nascondere da Dio sapete ho letto una bella interpretazione mi è piaciuta tantissimo il peccato di Adamo qual è? non è tanto il fatto che ha mangiato la mela l'abbiamo visto che non è la mela vi ricordate l'abbiamo visto il peccato vero di Adamo sapete qual è stato? che si è nascosto beh mi piace è una bella immagine però il peccato è nascondersi quanto ti nascondi all'altro quello è il peccato quindi dietro il nome c'è una storia c'è la nostra storia e la nostra storia Cristo non è mai essente quindi la storia sempre sempre è storia di salvezza ora in questa storia se avete notato c'è un passaggio particolare perché a un certo punto di questa storia mentre ha seguito un ritmo questa storia Davide generò Salomone Roboamo generò Abia avete visto c'è il nome maschile che dice che generò il figlio non dice il nome femminile che genera è il maschio che genera perché perché tenete presente che la società è quella maschilista quindi è l'uomo che compare e c'è una cosa strana che ci sono queste cinque donne qua dentro però l'attribuzione alla famiglia il cognome lo del padre non lo dà la madre la donna è l'uomo che ha il cognome però se avete ascoltato poi a un certo punto c'è un cambiamento vedete se è riuscito a cogliere il cambiamento vi leggo gli ultimi due passaggi mattan generò Giacobbe Giacobbe generò Giuseppe lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo cogliete che c'è una differenza non dice Giuseppe generò Gesù dice Giuseppe lo sposo di Maria e anche questa è una cosa particolare perché nella mentalità biblica non dice mai lo sposo di Maria è sempre la donna che è la sposa dell'uomo qui invece dice che questo uomo è lo sposo di Maria Giuseppe è Maria dalla quale Maria è nato Gesù chiamato Cristo noi sappiamo la storia sappiamo che l'angelo va dalla Madonna e Maria così e Giuseppe però Giuseppe questa storia non la sa e chi legge chi inizia a leggere per prima volta questa storia non la sa quindi dovrebbe dire che è successo qua dovrebbe saltare un po' dalla seria però ripeto siccome noi siamo sempre abituati diamo per scontato quindi ci potrebbe dire ben poco questa cosa invece anche qui deve farci capire come ancora una volta il modo sapete qual è la cosa chiara che viene fuori leggendo l'angelo che per Dio niente è chiaro come lo immaginiamo noi noi ci immaginiamo una cosa splendente forte così per Dio non è così se per noi è chiaro questo che c'è questa non chiarezza secondo il nostro modo capiamo tutto fino a capire a un certo punto e lo dovremmo ammettere questo che forse noi non abbiamo capito niente perché quello che qui ci sta invitando e lo vedremo poi a Natale è la conversione convertirci all'immagine di Dio alla vera immagine di Dio non a quella che noi ci immaginiamo sarebbe stato il tema che avremmo trattato durante il ritiro che avremmo dovuto trattare poi domani così fu generato Gesù Cristo sua madre Maria essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero di avere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo Giuseppe il suo sposo poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto mentre però stava considerando queste cose ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore chiedisse Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo ella darà a luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù egli infatti salverà il suo popolo dei suoi peccati tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta ecco la Vergine concepirai darà a luce un figlio a lui sarà dato il nome di Emanuele che significa Dio con noi quando si destò dal sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa senza che egli la conoscesse e la diede alla luce un figlio e gli lo chiamò Gesù anche qui in questa scena Matteo ci provoca è il Vangelo questo di domenica mentre la genealogia sarà il Vangelo di domani questo qua dell'annuncio a Giuseppe è il Vangelo di domenica qui ci viene spiegato come avviene la nascita di Gesù vedete c'è una differenza perché Matteo ci presenta Giuseppe Luca ci presenta Luca ci presenta Maria quindi abbiamo l'annunciozione a Maria in Luca nel Vangelo di Matteo l'annunciozione a Giuseppe e quindi ci dice che c'è un fatto che si è venuto a creare voi sapete che per gli ebrei il matrimonio si viveva in due tempi c'era un primo tempo che era il contratto il cosiddetto contratto di matrimonio noi potremmo dire la promessa matrimoniale dove in pratica il padre della ragazza e lo sposo facevano il contratto di matrimonio e si stabiliva anche la somma che lo sposo dava al padre perché in un certo qual modo si comprava la moglie non ci scandalizziamo va bene ok quindi c'è questo contratto che viene fatto ma già ufficialmente però erano sposi anche se non vivevano insieme perché lei stava ancora a casa del padre lui stava a casa sua però di fatto lui già aveva diritti su di lei non vivevano ancora insieme però erano di fatto già sposi tenete presente che la donna poteva sposarsi 12 anni e da 12 anni un giorno in poi invece l'uomo da 13 anni un giorno in poi noi non sappiamo che età però probabilmente si andava molto sposi giovani anche perché il papà il desiderio suo è di togliersi la donna e la femminuccia davanti perché il problema è che se poi non si sposava era una iattura per una famiglia avere la donna in casa l'ebreo quando faceva la preghiera ringraziava il signore di non essere nata donna eh perché questo fatto è così e quindi quando prima riusciva a togliere quindi a maritarla era una liberazione per il padre quindi probabilmente 12 anni 13 anni l'età in cui è andata in sposa probabilmente anche Giuseppe noi ci immaginiamo sempre Giuseppe anziano vecchio il papà Benedetto lì invece disse probabilmente Giuseppe pure lui era giovane perché c'è un mangelo anziano non sappiamo perché qui c'è un mangelo apocrifo che dice che Giuseppe sposa Maria in seconde nozze perché gli morì la moglie quindi quando fa riferimento ai figli Giuseppe aveva già quattro figli secondo un mangelo apocrifo e si è morto Giuseppe a 111 anni e quindi da qui molte volte però la tradizione che poi si viene rappresentato anziano noi teniamoci al nostro testo quindi pensiamo due giovani è più bello pensarlo proprio come due giovani Giuseppe e Maria erano due giovani che avevano i sogni che erano tantissimi giovani di quanto pensano di sposarsi che cosa pensano quando si sposa di farsi una bella famiglia di avere dei figli di avere la comodità tra una casa c'è mia moglie stiamo insieme vivere un momento anche di affetto noi abbiamo sempre detto Maria ha fatto il voto di restare vergine fin dall'inizio e non si capisce allora perché è promessa sposa si è fatto questo voto cioè che senso avrebbe avuto per le sposarsi quando poi nessuno aveva fatto il voto di restare vergine Papa Francesco nel suo libro sull'infanzia di Gesù dice che probabilmente questa desi è da scartarsi anche se è quella desi che purtroppo continua molte volte ad andare avanti ora dalla promessa di contratto di matrimonio fatto abbiamo detto passava un anno quando poi lo sposo prendeva la sposa e la portava ufficialmente nella sua casa con la consumazione delle nozze con il rapporto sessuale quindi quello era poi il matrimonio che era consumato e quindi a tutti gli effetti in questo frangente succede che Maria noi sappiamo che è successa Maria perché l'angelo arriva da me e dice le dà la vocazione le consegne Giuseppe questo non lo sa però lo viene a sapere da chi e da che cosa il testo non lo dice perché avete sentito essendo promessa a sposa Giuseppe prima che andassero insieme quindi l'anno il matrimonio la consumazione del matrimonio si trova incinta a parte dello spirito santo Giuseppe è suo sposo quindi Giuseppe sa questa cosa gliel'avrà detto Maria si saranno visti e Maria gliel'ha detto dice Giuseppe la cosa sta così e così davanti a questo fatto Giuseppe è in crisi chi di noi non entrirebbe in crisi sapendo che la promessa sposa la mia fidanzata è incinta e non è mio figlio immaginate le scenate che avremmo fatto la scenata se tutto andrebbe bene se non mandarla all'ospedale oppure vediamo per ancora meno si uccidono le persone invece qui Giuseppe usa un tratto di delicatezza massima e qui ci sono due interpretazioni perché dal lato Giuseppe sa ha saputo Maria gliel'avrà detto però è un'interpretazione questa qui dei padri della Chiesa perché due padri della Chiesa hanno due interpretazioni diverse dice Giuseppe sa di questo fatto perché Maria gliel'ha detto siccome lui si ritene indegno di poter essere padre anche puntativo del figlio di Dio e quindi di conservare Maria lui si ritene troppo indegno si vuole far si tira fuori si vuole tirare fuori da questa situazione l'altra situazione che effettivamente sa che è successo qualcosa non sa del mistero dello Spirito Santo e quindi effettivamente non vuole più condividere questa storia con questa donna e la vuole licenziare però siccome ama questa ragazza non lo vuole fare pubblicamente perché che cosa avrebbe successo siccome era già sposata l'avrebbe esposta al pubblico ludibrio ed era la legge prevista era la lapidazione allora la legge prevedeva anche che poteva fare una cosa privata la rimandava al padre davanti a due testimoni dicendo il motivo nel circolo chiuso e la ragazza tornava a casa immaginatevi che fine avrebbe fatto la ragazza a casa per sempre perché chi se l'avrebbe più sposata? nessuno quindi immaginatevi il dramma di Giuseppe non leggiamo come il fatterello leggiamo come il dramma di Giuseppe leggiamo come i nostri drammi della nostra storia i drammi della nostra vita quando noi ci immaginiamo una cosa e ci troviamo un'altra quando noi avevamo progettato qualcosa e all'improvviso il nostro progetto cade ed è bello perché dice il testo mentre però stava considerando queste cose ecco che gli appartino sono un angelo del Signore quindi Giuseppe si ferma a riflettere non parte in quarta davanti a certe decisioni forse quello che a noi manca è fermarci a riflettere anche entrando in crisi è necessario però quel fermarmi fermarmi per capire bene per quanto mi è possibile perché se sono sincero in questo cercare di capire e quindi non parto già con una mia decisione il Signore con la grazia dello Spirito interviene sempre a fare luce e devo avere però la capacità veramente e poi di voler riconoscere ciò che il Signore vuole farmi capire e non fargli dire quello che io voglio perché se ricordiamo ritorniamo ancora a Giovanni Battista quando manda i messaggeri sei tu il Messia Giovanni che fa? si apre alla novità del Messia non resta chiuso nella sua idea perché se ricordate noi due domeniche fa proprio di Giovanni Giovanni quando annunciava il Battista vi ricordate che dice quando il Messia che diceva alla scure già la radice dell'albero alla pula per pulire già la sua aia viene con potenza e fuoco quindi Giovanni ha questa immagine del Battista del Messia quando poi se lo trova diverso entra in crisi entra in crisi che fa però in quella crisi? non dice non è lui basta aspettiamo là ma andrà a dire sei tu o non sei tu? ed è bello perché Gesù come risponde a Giovanni? non dice sono io non dice neanche non sono io andate a riferire ciò che vi vedete e udite quindi la decisione comunque è tua però davanti alla situazione adesso apri gli occhi vedete bene la situazione come sta e prendi la tua decisione quindi non temere di prendere con te Maria non temere ricordate pure a Maria come è possibile non temere sapete è stato contato quante volte nella Bibbia compare questa espressione non temere sapete quante volte compare nella Bibbia? 366 volte sapete quanti sono i giorni dell'anno? 365 66 quando l'anno è bisestile qualcuno ha detto facendo una battuta però è la verità che il Signore ogni giorno ci ripete non temere anche quando l'anno è bisestile una coincidenza una cosa chiamatela come volete però è bello pensare questo che il Signore ogni giorno ci ripete in questa storia anche di fallimento e incomprensione non temere però apriti apriti a questa possibilità non ti chiudere non ti chiudere nella tua storia non ti chiudere nelle tue perconvenzioni non ti chiudere anche se il tuo progetto è fallito non ti chiudere c'è ancora possibilità e qual è la possibilità? accogli Maria dentro la tua casa non ti meriti prenderla con te e per accogliere devi fare spazio sapete quella cosa più ingombrante che noi abbiamo nel nostro cuore noi stessi noi molti volte siamo così ingombranti a noi stessi ecco perché il Signore non riesce ad entrare il Signore così grande ogni potente e forte davanti al nostro cuore si arrende bussa su non può violentare il nostro cuore non sarebbe più Dio però ripeto Giuseppe deluso amareggiato triste è tutto quello che volete voi queste cose nella sincerità nella verità è vero non è una sciocchezza quello che Giuseppe sta vivendo e qui il Signore viene non temere accogli però attenzione perché dice quello che viene in Maria però dice tu Giuseppe non sarai semplicemente un burattino oppure lì a fianco tu gli darei il nome dare il nome del padre che abbiamo visto nella genealogia chi dà il nome il padre quindi tu gli darei il nome di Gesù e qualcosa è il nome di Gesù salvere il suo popolo dai suoi peccati questa realtà che tu devi accogliere accogliendo Maria il fatto che questo che nascerà questo Gesù Dio salva Dio salva come? dal peccato questo perché non ci salva da altre cose il Signore perché guardate probabilmente forse noi dovremmo capire che se è vero che l'uomo è fatto per vivere la relazione se l'uomo è fatto per vivere la relazione e se il peccato rompe la relazione la prima cosa che bisogna restaurare è la relazione quindi il peccato perché facciamo tutti gli esperimenti di questo mondo ma se come si suol dire se non sto in grazia di Dio come si suol dire capite però che cosa voglio dire io posso avere tutto ma sarò sempre insoddisfatto provate a dire se nella nostra vita ci manca qualcosa ma abbiamo quella grazia di Dio se non stiamo bene proviamo proviamo a pensarlo a pensarlo solo o il telefonino o la macchina e tutto adesso pare che senza telefonino non riusciamo a vivere che facciamo a vivere senza telefonino proviamo a chiederci però ma fino a dieci anni fa non lo tenevamo il telefonino oppure qualche volta può succedere che si rompe e vai in assistenza stiamo poi diciamo come se lo stavano tranquillo quindi vuol dire che riconosciamo che non è quello l'equilibrio del cuore vedete che salverà il suo popolo dai suoi peccati proviamo a chiederci se non è morto il peccato che diventa questo ostacolo come ho detto prima no? in quella storia di peccato lui scende quindi facciamolo scendere tutto questo avvene perché si adempisse ciò che resta perché per Matteo tutto quello che succede Gesù tutto questo avvene perché si compie ecco la Vergine concepita fa riferimento a una cosa che ha detto Isaia nel capitolo 7 quindi noi stando a casa con calma facendo la nostra lezione divina dovremo andare a leggere Isaia cosa è questa profezia che secondo Matteo si sta compiendo con Gesù Giuseppe fece come gli ho ordinato al Signore perché attenzione è la nostra vita dare poi attuazione a quello che ci viene chiesto Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'Angelo del Signore non è che e poi Giuseppe per essere i fatti sui a Madonna per i fatti propri sì mi devo convertire però intanto resto così e non mi converto mai devo cambiare mentalità e mentalità non la cambio mai e da qui devo arrivare questi passi quando li faccio cioè questo cambiamento quando inizio può dare prova di questo cambiamento Giuseppe fece come gli aveva ordinato Maria sua sposa e se la porta a casa prese con sé Maria e qui dice una cosa particolare senza che egli la conoscesse attenzione non significa che Giuseppe non conosceva Maria il verbo conoscere nel linguaggio biblico indica anche il rapporto sessuale conoscenza totale che coinvolge anche il corpo anche i sensi quindi dice Giuseppe prende con sé Maria siccome sta per nati Matteo non è che poi ha conosciuto avuto il rapporto con lei per cui è nato Gesù senza che Giuseppe senza che Giuseppe abbia avuto il rapporto con Maria figlio ed egli lo chiamò Gesù è una preparazione immediata a quello che stiamo per vivere ma che vivremo non il 25 dicembre ma che vivremo vissuto oggi anche se non ce ne siamo accorti e che vivremo anche domani se oggi non me ne sono accorto domani però potrei rendere mezzo allora quasi a mo' di sintesi c'è una storia noi siamo inseriti in questa storia la storia il Signore è nella storia perché nella mia vita la storia non la fanno gli altri la storia la facciamo anche noi la storia la nel mio piccolo lavoro nel mio piccolo in famiglia nel mio rapporto familiare in quello amicale in quello parrocchiale io faccio la storia quindi la consapevolezza che anche se sono segnato da mancanze o da ombre il Signore viene viene per fare luce in questa mia storia a volte anche di rivedere il mio progetto il mio programma anche se era quello che pensavo che mi avrebbe realizzato quindi la capacità anche in discussione però farlo davanti a lui meditare e contemplare queste cose anche di quello che di negativo mi sta succedendo la luce arriverà e a Giuseppe arriva come un sogno la capacità anche poi di saper cogliere che anche un sogno non Dio stesso un angelo un messaggero un messaggero è una persona può essere anche una notizia e il mio discendimento mi aiuta a capire questo davanti a questa realtà la consapevolezza che il Signore mi ha accogliere la novità di Dio nella mia vita la novità di Dio nella nostra vita si chiama Gesù viene per darci vita nuova vita in abbondanza sempre la novità di Dio e la novità di Dio ognuno quindi adesso tornando a casa chiaramente ognuno di noi dirà a se stesso ecco da questa parola qual è quel cambiamento che mi hai chiesto l'impegno per vivere questa parola ognuno ha la propria coscienza e poi così però una volta che l'ho individuato chiaramente cercare anche poi la parola diventa viva per ciascuno di noi noi incaneremo questa parola approfitto di questo grazie 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 grazie